Io ringrazio con molta veramente gratitudine e commozione per questa straordinaria accoglienza, per le parole così generose. Desidero mettere in chiaro che io considero tutto ciò non dovuto alla mia persona, ma alla persona che io sono venuta qui oggi a onorare, il suo nome è Giuseppe Moruzzi, figlio di questo paese terra, studente in questa università, gloria non solo del nostro paese, ma di tutto il mondo. Quindi io considero quanto oggi dirò a loro, e il tributo che loro danno a me, un tributo a chi purtroppo mancò tre anni fa, il grande neurofisiologo Giuseppe Moruzzi. A lui e non a me devono essere dati i tributi, sia per quella che è stata la sua vita, che su quello che lui ha fatto, che è molto superiore a quanto ingiustamente è stato riconosciuto a me. Ma i riconoscimenti, lo dissi questa mattina, non valgono per persone di tale elevatura come fu Giuseppe Moruzzi. Inizierò ricordando come noi ci siamo conosciuti, qual è stato il cammino, seppure differenti in seguito, ma che abbiamo iniziato quasi insieme. Ci siamo incontrati in un giorno veramente tragicamente storico, il primo ottobre 1939, il giorno dell'invasione di Danzica, io conobbi Moruzzi. Eravamo a Copenaghen per una conferenza e per la prima volta incontrai questo giovane che mi impressionò per il modo serio col quale fronteggiava gli eventi e per la fama che aveva già. Aveva solo 29 anni allora, ma di lui si sapeva già quel che aveva fatto. Io fui colpita quando lo conobbi di persona, lui sapeva niente di me. Io ero una perfetta sconosciuta, cacciata per questioni razziali o al minimo costretta, non cacciata, costretta a abbandonare il mio paese, a rifugiarmi dove mi avevano offerto un lavoro in Belgio. In combinazione ci trovammo insieme a Copenaghen quando i giornali recavano in prima pagina l'annunzio dell'invasione di Danzica che voleva dire l'inizio della guerra. Passammo tutto il giorno insieme, non aveva incontrato ancora la cara compagna della sua vita, Maria Vittoria. E io lo trovai, come ero io, in uno stato di disperazione perché si prevedeva che cosa si andava incontro. A parte la mia situazione personalmente grave, ma tutto il mondo era in pericolo. E tutta la giornata, sino alla sera tardi, si pensò che cosa potevamo fare. Infine, ognuno di noi ritornò al proprio paese. Lui non ritornò in Italia, lui aveva studiato qui a Parma, ma rientrò dove era allora a Londra. Lui lavorava con Lord Adrian, la fama, e dirò delle sue ricerche, era già ben nota, e ricominciava gli studi, tuttavia pronto, come fece a ritornare in Italia, come ufficiale medico, dato che la guerra dopo poco sarebbe stata imminente. Io rientrai in Belgio, dal Belgio ritornai in Italia, quando la guerra era vicino, e da allora tutti sanno quello che capitò, miracolosamente, sia lui che io scampammo. In un'anfasfera ben differente, ci siamo ritrovati nel 1949 a Chicago. Io lavoravo allora, dal 1947 mi ero stabilita, ero stata invitata a St. Louis, a Washington University. Lui lavorava con un grande anatomo fisiologo, Horace Magoon, alla Northwestern University. Io avevo occasione di andare a Chicago e ci incontrammo, ed è stato un incontro che non dimenticherò mai, perché io non sapevo del nuovo sviluppo formidabile delle sue ricerche, e tutto il pomeriggio io assistetti a uno degli interventi di quella famosa scoperta della housing system, del sistema ritocolare ascendente. Ricordo che ne parlammo, ricordammo i tempi che erano passati, ed allora le sue ricerche continuarono in modo formidabile, come dirò tra poco. Infine, tutti e due siamo rientrati in Italia, lui quasi subito a Pisa, dove stabilì questo laboratorio di formidabile ancora oggi, fama nazionale, internazionale. Io rimasi negli Stati Uniti sino al 61, quando ripresi contatto con l'Italia e mi stabilì definitivamente soltanto dopo il 79, dirigendo un laboratorio di ricerche. In questi anni, dopo questo primo periodo, i nostri incontri furono molto frequenti, ma ricorderò in particolare, piuttosto direi divertente, pensato a distanza di anni. Dopo il primo incontro con Giuseppe Moruzzi, allora giovane, ma già riconosciuto, disse al famoso Giuseppe Levi, da lei nominato, una persona splendida, un carattere curioso, disse, incontrai un giovane, ho detto, che farà storia in Italia. Lui mi guarda e dice, chi è questo? Dico, si chiama Giuseppe Moruzzi. E lui, con un'aria piuttosto maliziosa, mi dice, dica un po', lei è infattuata di questo giovane? Dico, no, professore, io non sono infattuata, riconosco il merito che sia uomo o donna, ma lei sentirà parlare di lui. Pochi mesi dopo, lui incontrò Moruzzi e disse da me, ma sai che è un giovane veramente formidabile? Io dico, professore, per caso lei è infattuato di questo giovane? E lui dice, ma sai che lei è una bella e impertinente? Questo vi dice come questa personalità giovane aveva colpito sia a me, non nel senso soltanto appartenevamo all'altro sesso, poteva esserci quello, no, veramente io avevo riconosciuto una persona di eccezionale valore, dal punto di vista scientifico già lo conoscevo, ma anche dal punto di vista umano, come insieme sono discussi i problemi. Ci si scambiò molte volte e nelle notizie del nostro lavoro e si ebbe piacere incontrarci. Ogni volta io ritrovavo il Moruzzi di sempre, il Moruzzi che io avevo riconosciuto, giovane, pieno di vitalità, anche se alla fine della malattia soffrì, della vita soffrì di una grave malattia, nulla era cambiato in lui. La profondità della capacità scientifica, la capacità creativa e quello che per me è più importante di questo, le caratteristiche etiche. Malgrado avesse sofferto anche di ingiustizia, mai una parola di questo. Le prime cose era il perdono anche di giovani aggressivi e che non stati sui studenti, poi sono ritornati amici, ma che non avevano agito in modo, secondo me, leale nei suoi confronti, mai da parte di Giuseppe una parola. Ci sai, sono giovani, vanno capiti. Ora, nelle qualità degli individui, io considero queste le qualità etiche le più importanti. In lui, per fortuna, erano unite quelle intellettuali, culturali ed etiche. E per questo io considero oggi Giuseppe Maruzzi veramente un esempio da seguire. Molti giovani oggi, è una mia esperienza, sono dei formidabili tecnici, conoscono tutto dell'ingegneria molecolare, del DNA ricombinante, eccetera, però manca di vista l'insieme, che è proprio quello dove era così superbo. Maruzzi, e direi, non si può essere ricercatore se non si ha di vista l'insieme. Io non credo di dover continuare a parlare a un pubblico che non è particolarmente specializzato di altri campi che si aprirono con questo lavoro in Maruzzi. Dirò soltanto che rimane per noi, oltre al ricordo di una formidabile personalità scientifica, quello di un uomo d'eccezione. Se oggi io sono qui e se oggi io considero a lui e non a me il tributo che è stato dato, è perché persone come lui possono ricreare veramente, e nei giovani, la fede nella ricerca e la conoscenza di come la ricerca va condotta. Maruzzi è il perfetto esempio, dal punto di vista umano, dal punto di vista culturale, va a una fortissima cultura umanistica, oltre al resto, e dal punto di vista della capacità scientifica. Questa aggiungeva l'enorme generità. Se attorno a lui si è formata una scuola così importante, che oggi ha personaggi, non le nomine uno per uno, perché dimenticandone uno potrei offenderlo se è qui presente, lui tiene dagli altri lo stesso impulso che aveva avuto nella vita, ed è questa curiosità, questa intensità della ricerca che gli permise anche di affrontare con tanto stoicismo le difficoltà della sua vita. Se una persona è impegnata come è stato lui nella vita e nella ricerca, e dagli altri punti, non ha paura di niente. Io sono sicura, per quanto mai con lui si sia discusso di questo, che lui si disinteressava al suo stato fisico. Tale era e tale stato, fino alla fine della sua vita, un solo desiderio, di lavorare con la massima intensità, con la massima onestà, e dando l'aiuto agli altri. Se l'Italia oggi è conosciuta nel mondo dal lato della biologia e praticamente nella neurofisiologia, tutto questo è dovuto a un figlio di questo paese, cioè a Giuseppe Moruzzi. Grazie.